Benvenuti nel nostro canale! Oggi parliamo delle anticipazioni esplosive della nuova stagione di Il Paradiso delle Signore Nove. La trama si infittisce con Vittorio Conti e Matilde Frigerio, ufficialmente ricercati dalla polizia, e la vendetta di Tancredi che incombe. Non perdetevi i dettagli. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna novità. Se pensavate che la fuga di Vittorio e Matilde fosse emozionante, preparatevi a restare senza fiato. Maresca non è mai stato così vicino a catturarli. La giustizia prevarrà o l'amore trionferà? Restate con noi per scoprirlo! Prima di immergerci nella trama, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del Paradiso delle Signore Nove, e molto altro ancora. Nell'ultimo episodio della scorsa stagione, abbiamo visto Matilde dire a Vittorio «Ci siamo conosciuti in un aeroporto e da qui ripartiamo!» mentre guarda malinconica le luci che si allontanano. Vittorio le risponde «Vivremo una vita bellissima, te lo prometto!» Ma le circostanze non sono così romantiche come sembrano. Matilde e Vittorio sono in fuga, ricercati dalla polizia, con Maresca sulle loro tracce, probabilmente su ordine di Tancredi, determinato a vendicarsi. Maresca, dopo la denuncia di Tancredi per adulterio, arriva al grande magazzino per trovare Matilde. Grazie all'intervento di Clara, che guadagna tempo, Marta riesce ad aiutare Conti e una spaventata Matilde a uscire dal retro e fuggire da Milano. Il loro piano sembra riuscire perfettamente, almeno per ora. Marta saluta Vittorio tra le lacrime, consapevole che potrebbe non rivederlo mai più. «Addio», le dice lui, con una nota di tristezza. Con la fuga di Vittorio e Matilde, il grande magazzino passa sotto la guida di Marcello e Roberto. Hanno promesso di fare del loro meglio per portare il paradiso delle signore a nuove vette. Ma la domanda che tutti si pongono è, «Che ne sarà di Conti e Matilde?» Tancredi, nonostante il colpo subito, non ha rinunciato alla sua sete di vendetta. Sia Umberto che Tancredi hanno perso la donna che amavano, e, anche se calmi in apparenza, dentro di loro bruciano di rabbia. Tancredi, in particolare, è determinato a far sì che Maresca rintracci Matilde e Vittorio, sperando di vederli finire in prigione. Con Alessandro Tersigni confermato fuori dal cast della nuova stagione, sembra probabile che Vittorio possa avere un'uscita di scena drammatica. L'arresto di Vittorio e Matilde sarebbe un colpo di scena perfetto per chiudere il loro capitolo. Ma le trame rimaste in sospeso non riguardano solo loro. Irene deve fare i conti con l'abbandono di Alfredo, mentre Umberto affronta la solitudine dopo l'addio di Flora. Le riprese della nuova stagione stanno per iniziare, e alcune anticipazioni sono trapelate. Marcello avrà un ufficio tutto suo al grande magazzino, e, insieme a Roberto, metterà tutto il suo impegno per mantenere la promessa fatta a Vittorio prima della sua partenza. Sarà interessante vedere come questi nuovi capitani affronteranno le sfide che li aspettano. Cosa ne pensate? Vittorio e Matilde riusciranno a sfuggire alla cattura, o Tancredi avrà la sua vendetta? Scrivete nei commenti le vostre teorie. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie! Restate sintonizzati per altre anticipazioni e approfondimenti su Il Paradiso delle Signore Nove. Le prossime puntate promettono emozioni forti e colpi di scena indimenticabili. Alla prossima!